Il rasoio elettrico Panasonic ES RT53 garantisce una rasatura efficace e precisa su tutto il viso. Il suo design è studiato in ogni minimo dettaglio per rendere le operazioni di rasatura veloci e piacevoli. Il suo sistema di rasatura a tre lame inossidabili con affilatura nanometrica permette di catturare facilmente anche i peli più ispidi e garantisce una rasatura rapida e senza imperfezioni. A questo si aggiunge la testina con curvatura multifitta d'arco che consente di seguire il contorno del viso in maniera impeccabile per trattare ogni centimetro della pelle. Il regola basette infine farà il resto aiutandovi a rifinire i dettagli e i contorni per uno stile inconfondibile. Grazie al sistema wet and dry e dalla batteria interna con indicatore LCD il rasoio elettrico Panasonic ES RT53 può essere utilizzato anche sotto la doccia. L'acqua calda aiuterà ad aprire i pori per offrire una rasatura ancora più piacevole. Panasonic ES RT53 è un rasoio davvero ottimo, ideale per ogni uomo che tiene alla cura del proprio viso.